In attesa delle evoluzioni dei prossimi giorni, quelle in cui si deciderà sul futuro del governo alla luce delle dimissioni di Matteo Renzi per la vittoria dei no al referendum costituzionale, si aprono nuovi scenari politici anche in Abruzzo. Se Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e Forza Italia festeggiano la vittoria popolare del no, a Chieti il sindaco di Primio chiede un incontro al coordinatore regionale del nuovo centrodestra Federica Chiavaroli, che ha sostenuto il sì al fianco del Partito Democratico e oggi chiede di mettere in chiaro la posizione ricoperta per un centrodestra che non sembra più in linea con il resto degli schieramenti. Che il segretario regionale del partito, cioè il sottosegretario Chiavaroli, facesse campagna per il sì era ovvio, dico io, lei credeva anche nelle ragioni del sì e quindi è anche giusto che abbia fatto campagna per il sì. Il problema non è che ha vinto il no. Comunque sarebbero andati i risultati. Io avrei chiesto al segretario regionale di rivedere alcune posizioni, perché è evidente che il NCD, che per me si chiama nuovo centrodestra e non nuovo partito democratico, deve avere una linea chiara nelle proprie strategie politiche. Io sono uomo di centrodestra, vengo dalla destra e vorrei costruire insieme ad altri il centrodestra in Abruzzo e anche in Italia. È determinato e chiaro Umberto Di Primio, appoggiare il PD non è più tollerabile per un partito chiamato nuovo centrodestra che strizza l'occhio alla sinistra. Al termine del confronto tra Di Primio e Federica Chiavaroli potrebbe verificarsi una spaccatura ed un'uscita dal partito. E per quello che mi riguarda, se la sorte fosse vicina al centrosinistra, io non ovviamente parteciperò a quella nuova strada, perché quella strada non mi appartiene per cultura, per credo personale e anche per valori che vengono espressi da quella sinistra rispetto a me. La mia non sarà un'uscita per entrare, la mia sarà un'uscita dal nuovo centrodestra, se il nuovo centrodestra andrà a sinistra, ma sarà un'uscita per costruire qualcosa. Vedremo poi con chi, ma non ho bisogno di una casacca per fare politica, l'ho già dimostrato alle elezioni amministrative. Il nuovo centrodestra è il partito con il quale stavo, ma non è il nuovo centrodestra che mi ha fatto vincere le elezioni.